Benvenuti su iPhoneItaliaVideo.com, oggi vi presenterò 2XL6XHD, ovvero un gioco presente in App Store di motocross che ci permetterà, grazie al nostro dispositivo, di pilotare un crosser all'interno di una pista, ovviamente un terriccio e quindi fare dei balzi in alto e quindi cercare di vincere anche le gare, come potete vedere già la grafica inizialmente è molto accattivante ovviamente questo è un video di presentazione, ma vediamo subito come si gioca. Una volta selezionato quindi il personaggio nel caso in cui volessimo selezionare un personaggio specifico, quindi dargli un nome e così via, avremo la possibilità di fare quindi la gara scegliere ovviamente tra le tante piste presenti nel gioco, quindi selezionarla e poi avere la possibilità anche di selezionare il pilota e anche la moto, quindi anche secondo la cilindrata, quindi in questo caso abbiamo un 450 di cilindrata e andiamo a selezionare quindi facile, medio e intermedio. Ma vediamo subito come si gioca. Ecco questa è la presentazione iniziale all'inizio della gara, in pratica non dovremo fare altro che schiacciare il tasto verde per accelerare e il tasto rosso per frenare poi a seconda delle cunette che si verranno a presentare durante lo stage, avremo la possibilità quindi di inclinare il nostro iPhone sia in avanti che indietro, perché così seguiremo quindi la curva della pista. Quindi in questo caso come potete vedere se io tirerò verso di me il mio dispositivo il pilota cercherà di fare un 360 che ovviamente non mi verrà mai ecco in questo caso ci sono riuscito. Diciamo che il gioco è veramente molto carino, bisogna imparare più che altro a utilizzare il comando con l'inclinazione del telefono che secondo me è molto difficile come nei migliori giochi di macchine presenti già in App Store, quindi basandoci sull'inclinazione noi dovremo far curvare il nostro pilota. Devo dire comunque che graficamente io sto utilizzando su un iPhone 4, questo gioco è veramente molto bello e soprattutto è quasi impossibile vincere delle gare nel senso che bisognerebbe proprio impegnarsi al 100% perché dovremmo seguire anche non solo i salti ma anche le discese magari mettendoci a cupolino verso il basso in modo tale da prendere la discesa più velocemente. Ecco diciamo che quindi il gioco si basa sulla gara del nostro personaggio quindi motocrosser che noi andremo a scegliere ovviamente a seconda della cilindrata quindi avremo anche la possibilità di fare gare non solo per 450 di cilindrata ma anche 250 e così via il gioco a mio avviso comunque è molto carino e diciamo che lo consiglierei comunque vivamente a tutti i miei amici di iPhoneItaliaVideo.com. Un saluto!